Andate lì a ripignare ragazzi, andate lì. È il mezzo al casino. Dai, veloce. La bomba, venga. Una bellissima giornata di sole, una limpida giornata d'inverno. Incontrai Elisabetta, che è una delle vittime, che era la mia migliore amica. Stavamo facendo l'ora di conversazione inglese. Mi avvisava che c'era un incendio nella succursale. Sala Barancini. Sì. Lei era, come lo scrittore, sempre spettinata. Sì. Seppi i capelli e me li avevo putti davanti, io me li ricordo come erano. Ed in perdono umano lo puoi anche ammettere. Ma non si può permettere il perdono al sistema. Io sono convintissimo che già definirla giustizia non piena, cioè meglio definirla proprio giustizia vuota. E non vedremo più il nostro domani, per sempre giovani, per sempre uguali.